E' stramazzato al suolo dopo aver perso conoscenza a seguito di un gravissimo incidente che aveva subito poco prima. Si è conclusa davanti all'ingresso del supermercato Lidl di via Valmaura la corsa di un motociclista 45enne che ieri sera intorno alle 21 è andata a sbattere con il proprio mezzo a due ruote una Harley Davidson di colore nero contro i garei della grande viabilità triestina a circa 100 metri dalla galleria di Servola. La lamiera della barriera che delimita le corsie stradali ha agito come un rasoio amputando di netto un piede che è stato successivamente ritrovato dalle pattuglie della polizia locale e dai vigili del fuoco. Probabilmente a causa del forte shock l'uomo dopo l'urto ha comunque proseguito la marcia uscendo poi dalla superstrada attraverso la rampa di Valmaura e fermandosi come detto davanti al supermercato. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente alertato i soccorsi. L'uomo è stato trasportato in condizioni che sembravano disperate a causa della forte moragia nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Catinara ma da quanto è stato possibile apprendere stamane è migliorato per cui non sarebbe più in pericolo di vita. Se le condizioni del piede dovessero risultare ancora recuperabili l'uomo potrebbe essere trasferito ad urgenza all'ospedale di Pordenone specializzato in operazioni di microchirurgia degli arti per tentare il riattacco.